eccoci qua salve a tutti amici e bentornati sul mio canale bentornati dal vostro giugio io ragazzi in questo lunedì dobbiamo necessariamente andare ad analizzare un quadro che si fa sempre sempre più cupo un quadro ragazzi che si va a delineare che ci diciamo va a tracciare sempre più marcatamente una linea molto molto importante che è la linea della collaborazione dell'inter con queste associazioni criminali e ci fa capire quanto fossero potenti quanto fossero pericolose e forse a chi ne avesse avuto il dubbio sull'inizio dell'indagine ci fa capire anche perché il pm che si occupa del caso non vi parlo ragazzi del procuratore capo viola lì c'è bisogno di niente perché lui è a posto lo sanno anche di là ma del pm marco storari che è stato messo sotto scorta ragazzi questa è gente che non scherza questa è gente molto molto pericolosa è un'intercettazione ragazzi ci dimostra quanto siano stati pericolosi e quanto però ragazzi da altra parte l'inter fosse assolutamente consapevole di delle persone con cui avesse a che fare i tesserati dell'inter sapessero benissimo e quindi ragazzi di conseguenza l'inter è passibile di anche slealtà sportiva perché poi a me non frega niente dal punto di vista penale civile tanto questi qua non hanno pagato nessuno finora dovevano fallire e non hanno pagato quindi non è quello il problema ma il problema è che dal punto di vista sportivo per me l'inter è passibile di articolo 4 slealtà sportiva ne parliamo insieme diffusamente in questo video ma prima di tutto ragazzi come al solito vi chiedo fondamentale per la circolazione del video sulla piattaforma un like il like ragazzi significa oltre al gradimento del contenuto che spero spero che in tanti gradiate come spesso fate soprattutto il fatto che questo video venga riproposto a più persone più persone abbiano la possibilità di vedere questo contenuto proposto nella loro bacheca quindi persone che non sono iscritte al canale persone che non mi conoscono e allora ragazzi iscrivetevi chi non l'avesse ancora fatto è gratuito assolutamente è dato una mano ad un canale che si propone di fare un'informazione pulita un'informazione che vada a contrastare con diciamo le ombre dell'informazione mainstream che ragazzi si rivela sempre più vergognosa quindi likeate iscrivetevi e campanella delle notifiche per rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrà a produrre su questo canale dopo la premessa ma prima di cominciare col video vero e proprio di cui andremo a discutere ragazzi bisogna fare i complimenti alla gazzetta dello sport perché ragazzi questa volta la gazzetta dello sporco si è superata ha dimostrato davvero tutta la sua imparzialità io voglio fare i complimenti un applauso al direttore della gazzetta dello sport perché non lo so chi ha scritto quell'articolo quest'articolo che vedete che è stato avallato da qualcuno ma qualcuno ne avrà responsabilità e prima o poi dovrà rispondere gente che come vi ho detto aveva chiesto le scuse della fondazione identità bianconera perché la fondazione identità bianconera gli ha chiesto spiegazioni perché parlavano di un passivo a bilancio della juventus dando i numeri con una certa enfasi e con una certa tra l'altro soddisfazione numeri negativi naturalmente senza però spiegare come ci si arrivasse il perché allora identità bianconera aveva chiesto spiegazioni loro nel momento in cui quei numeri poi si sono verificati chiedevano chiedevano le scuse ma loro quanto mai ci chiederanno scusa di tutto lo schifo che fanno perché questa volta ragazzi si sono superati perché la pace tra spalletti e inzaghi come sapete è una bufala clamorosa smentita da spalletti che ha detto non devo parlare con nessuno io non ho attaccato nessuno la mia era una dichiarazione su come mi sarei comportato io se mi fossi mai trovato in quella situazione cosa che non è mai successo punto ragazzi siamo a piong yang la l'informazione italiana è al 46 posto nel mondo c'è una ragione e la gazzetta dello sport con diciamo il suo pompon da cheerleader è uno è uno dei motivi pregnanti per cui questa nostra informazione è davvero scadente detto questo passiamo invece ragazzi passiamo all'inter passiamo all'intercettazione che mi ha lasciato stupito l'intercettazione ragazzi questa tra il responsabile della sicurezza nero azzurro claudio sala e vittorio baiocchi vittorio baiocchi ex capo oltre dell'inter poi ammazzato due anni fa e quello ammazzato due anni fa che poi ha lasciato il posto a beretta che a sua volta ammazzato il rampollo della famiglia bellocco il lo scorso 4 settembre quindi ragazzi questo vittorio baiocchi chiama chiama questo responsabile claudio sala dicendogli cosa sta succedendo come mai arrivano i calciatori e noi non lo sappiamo e da quel punto di vista e da quel punto di vista ragazzi è qualcosa di clamoroso la risposta di sala che gli dice praticamente gli dice tu lo sai io non posso darti queste informazioni per telefono dobbiamo trovare il modo e lui gli dice ma non puoi trovare un altro modo c'è la possibilità volendo lo dici lo racconti a qualche amico tuo che me lo fa sapere comunque si scambiano queste parole così non va bene non così non va bene per non finire quando questo diceva sia l'inter che tu avete rotto il cazzo e claudio sala gli risponde io ho rotto il cazzo io ho rotto il cazzo sto rischiando il posto di lavoro sai che che ho il telefono sotto controllo e che certe cose al telefono non le posso dire e lui dice no dobbiamo cambiare non è possibile che arrivino i calciatori si parlava dell'arrivo di Ashley Young arrivato appunto nel gennaio 2020 dovrebbe essere l'anno di Conte l'anno dello scudetto non l'anno dello scudetto l'anno prima l'anno in cui la Juventus vince lo scudetto di Saris l'ultimo dei nove scudetti della Juventus arriva Ashley Young esattamente nel 2020 e non viene avvisata e non viene avvisata la CUP e questo qua ragazzi minaccia dice adesso adesso o ci fa o fate quello che dovete fare o il nostro ce lo prendiamo con la forza quindi assolutamente una consapevolezza di forza una consapevolezza di ciò che potevano fare è una sottomissione da parte dell'Inter quindi tutto va a smentire assolutamente le parole di la russa dell'altro giorno che dice l'Inter in questo caso non ha un rapporto di sottomissione questa intercettazione smentisce esattamente le parole di la russa secondaria cosa si capisce anche il tono di Inzaghi e Zanetti che negano di essere mai stati minacciati non ci sono intercettazioni che lo dimostrano con loro sono stati tranquilli ma evidentemente entrambi entrambi sanno con chi hanno a che fare e se si comportano in un certo modo lo fanno perché temono anche loro temono magari non per la loro incolumità perché non penso questi possano arrivare al punto di ammazzare dei calciatori ma di creargli delle grane di come come spiegato come facile intuire ragazzi mettere in mezzo una protesta una shitstorm verso calciatori e squadra e quindi ti possono rovinare una stagione quando vogliono ragazzi gli ultra possono questo perché poi loro dicono di essere dei grandissimi tifosi ma come vedete queste persone più che l'interesse della squadra tengono assolutamente al loro tornaconto e questa cosa ragazzi andrebbe spiegata benissimo agli abitanti di Narnia perché gli abitanti di Narnia vedono diciamo il nostro attacco solo nei confronti della loro società il problema è che noi dicendo queste cose diffondendo queste notizie stiamo anche dando una mano a loro ad avere uno stadio più pulito una tifoseria più pulita un posto più sicuro dove andare portare i loro figli e soprattutto a parte che lo facciamo per tutto il calcio italiano perché quando scoppia un casino del genere un pochino poi la cosa va in tutti i controlli dovrebbero aumentare un pochino dappertutto a parte questo loro pagavano anche il prezzo di questi ma voi lo ricordate quando è stato ucciso Vittorio Baiocchi che cosa ha fatto la curva nord ha costretto persone che avevano pagato il biglietto a uscire dallo stadio ragazzi l'inter come la Juventus e il Milan è una squadra attifata in tutta Italia mettete che c'è uno come me che non abita esattamente a Milano che è tifoso dell'inter quindi va bene non è come me però diciamo che viaggia no che quindi viaggia per andare a vedere la partita magari ci va a con moglie e figli gli costa 500 euro di biglietti è il desiderio del figlio il compleanno del figlio andare a vedere questa partita lui magari è un operaio magari non ha tanti soldi magari si è dato un pizzicotto sulla pancia magari ha risparmiato per dare questa opportunità al figlio e questi qua ti cacciano fuori dallo stadio ti costringono ad andare fuori dallo stadio perché è stato ucciso un criminale perché di un criminale si tratta non è che è stata uccisa una brava persona per sbaglio no è stato ucciso un criminale che è capo oltre della curva dopo svariati decenni in carcere è uscito ed era capo oltre della curva ed è stato ucciso e io devo uscire dallo stadio e perdere i soldi perché per rispetto di questa persona questo è la curva nord di Milano questa è stata la curva nord di Milano ci sono anche in altre curve ma la verità la verità è che adesso stiamo parlando di voi e che l'infiltrazione mafiosa c'è stata da voi e che l'andrangheta si è infilata da voi e che la vostra curva ha speculato su di voi vendendovi i biglietti dieci volte tanto che il vostro addetto alla sicurezza dava le notizie costretto praticamente a questi qua perché aveva paura e allora i vostri calciatori intercettati hanno parlato ripetutamente ripetutamente con questi personaggi che hanno addirittura alzato la coppa italia hanno addirittura alzato la supercoppa hanno foto postate dappertutto con tutti i membri della vostra squadra addirittura c'è un'immagine di danilo d'ambrosio che piange insieme agli ultra perché deve abbandonare l'inter quindi c'è un rapporto stretto viscerale tra questa gente che andava allo stadio col solo scopo di delinquere e di ingrossare le loro tasche alle vostre spalle con la vostra società questa si chiama realtà sportiva è articolo 4 del codice di giustizia sportiva e quindi a mezzo dell'articolo 8 e 9 è previsto ragazzi è previsto che questa squadra paghi con una penalizzazione se non in casi ancora più gravi con l'esclusione dal campionato di competenza questo è quello che prevede il codice di giustizia sportiva perché all'articolo 7 invece c'è scritto che la società è direttamente responsabile delle azioni dei suoi tesserati tramite la responsabilità oggettiva soltanto può bypassare questa norma ove la società dimostrasse di aver fatto tutto il possibile affinché i propri tesserati avessero un comportamento ligio visto e considerato che marotta invita gli ultra a vedersi lontano da piano gentile lontano dalle telecamere marotta era all'epoca l'amministratore delegato nonché direttore generale dell'area sportiva dell'inter io direi che questa eventualità non si pone fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti massima condivisione di questo contenuto e fino alla fine contro tutto e tutti sempre comunque forza juventus sei nel dubbio un bel intermerda per cominciare questa settimana carichi così da non sbagliare mai grazie a tutti grazie a tutti